Ciao ragazzi! Allora, oggi vi faccio una domanda. Che fate? Quindi, se io chiedo a qualcuno di voi, singolarmente, che fai? Voi potete rispondere in tanti modi per dirmi quello che state facendo in questo momento. Io parlo, oppure io sto parlando, perché succede adesso. Io scrivo, io sto scrivendo una lettera. Io ascolto la musica, io sto ascoltando la musica. Io leggo un libro, oppure io sto leggendo un libro adesso, in questo momento. Io mangio, io sto mangiando. Io bevo un bicchiere d'acqua. Io sto bevendo un bicchiere d'acqua. Io dormo, o io sto dormendo. Io cammino, o io sto camminando. Io sto passeggiando, sto facendo una passeggiata. Io corro, sto correndo. io rido, sto ridendo. Io piango, io sto piangendo adesso, in questo momento. Io parlo al telefono, io sto parlando al telefono. Io salgo, io vado sopra, sto salendo. Io scendo, io sto scendendo, sto andando giù. Io canto, io sto cantando. Io ballo, io sto ballando. Quindi, come abbiamo visto, tutte queste azioni le possiamo dire in due modi, se vogliamo parlare al presente. O diciamo parlo, scrivo, scrivo, ascolto, oppure sto parlando, sto scrivendo, sto ascoltando, perché è una azione che sta succedendo proprio adesso, nel presente.